Da giovedì primo aprile parte un passo dal cielo 6, la serie di Rai 1 è stata prodotta anche tra le nostre montagne, in particolare nelle zone di San Vito di Cadore, La Val Boite e Cortina d'Ampezzo. Lux Vide e Rai Fiction hanno avuto modo di girare le puntate tra giugno e settembre scorsi, trovando nelle Dolomiti il set ideale per le avventure del protagonista Francesco Neri. Si chiama con un nuovo titolo I Guardiani, perché abbiamo voluto sancire questo cambio incredibile, siamo venuti in Veneto nelle montagne più belle del mondo, considerate da tutti le più belle del mondo, la ballata più bella del mondo, quindi questo è stato il nostro primo messaggio, veicolare la novità, veicolare un luogo incredibile, meraviglioso, una popolazione che ci ha accolto a braccia aperte, siamo stati felicissimi di girare in queste montagne, nel Belunese, nel Cadore. Sono felice, ringrazio Luca per avermi invitata a tornare, sono felice di essere tornata in questa stagione nelle montagne più belle che ci sono in assoluto, che sono le Dolomiti Venete, quindi veramente io sono contenta e grata per l'accoglienza che ci è stata data, perché per noi soprattutto in questo periodo è stato proprio stare a casa, proprio iniziando dalla natura. I posti più belli di questi non ce ne sono, noi siamo grati a tutti, siamo grati al Veneto, siamo grati alla popolazione del Veneto e questa sarà la serie più bella di tutte.